Un fine settimana con un unico protagonista, il patrimonio storico del territorio, l'arte italiana e le bellezze della natura. Sono 750 i luoghi accessibili in tutta Italia. A Trapani, oggi e domani, sarà possibile visitare il Palazzo Vescovide con il suo antico e prezioso archivio storico diocesano e scoprire i tesori artistici custoditi all'interno della Cattedrale di San Lorenzo. Oggi tutto il FAE siciliano si ispira al Grand Tour dei grandi viaggiatori che hanno calcato la terra di Sicilia. Noi abbiamo preso spunto da un famosissimo archeologo che ha lavorato sia in Italia che in Francia, addirittura sul finire del XVIII secolo fu direttore amministrativo dell'Uvr, Ennio Quirino Visconti, il quale venendo a Trapani descrisse questa città come una città molto operosa e descrisse l'eleganza e la bellezza della rua grande, della sua strada principale. Oggi Corso Vittorio Emanuele. Nell'ambito di questa bellissima via della nostra città abbiamo deciso di aprire al pubblico, alle visite, l'archivio storico diocesano, il Palazzo Vescovide e la Cattedrale di San Lorenzo, dove tutti sono entrati ma che pochi conoscono dal punto di vista di quello che contiene. Questa è la nostra offerta di oggi. Per noi oggi del FAI è una giornata importante perché facciamo raccolta fondi per la nostra fondazione, che è una fondazione senza scopo di lucro, e ciò che raccogliamo oggi serve a finanziare le nostre attività e chiunque venga a lasciare il suo contributo diventa attore protagonista di una storia che è una storia virtuosa di bellezza, di cultura, di ambiente, di paesaggio. E questo è quello che cerchiamo di trasmettere anche e soprattutto attraverso i nostri bravissimi apprendisti ciceroni, che sono i ragazzi delle scuole nei quali cerchiamo già di instillare il germe del bello e della cultura. Ed in occasione delle giornate di primavera, gli studenti trapanesi sono tornati ad indossare i panni degli apprendisti ciceroni. Noi come FAI abbiamo sempre puntato alla formazione dei ragazzi, perché è lì che si semina, cioè i ragazzi vivono in modo attivo la loro città raccontandola. Quest'anno, oltre ai ragazzi impegnati in PCTO, cioè ai ragazzi grandi, sia della Rosina Salvo, sia dello Sciascia Bufalino, abbiamo anche i piccoli ciceroni della scuola De Stefano e dell'Annunzionasi, che racconteranno questi luoghi meravigliosi che fanno parte del Grand Tour.